Buongiorno a ragazzi e ragazze dell'Istituto Cevolani. Grazie mille per l'invito. Purtroppo non potevo partecipare più diffusamente all'iniziativa di oggi, ma ci tenevo a mandare un messaggio. Oggi, il 25 novembre, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne e probabilmente ne sentirete parlare molto sia all'interno di questa iniziativa, ma anche sui giornali, al telegiornale, un po' ovunque. Perché in questi anni si è iniziato a parlare più diffusamente di questo tema, che è un tema che riguarda tutto il nostro sistema sociale, tutte le relazioni tra le persone affettive, lavorative, economiche, psicologiche, e questo è estremamente importante. Il fatto è che ancora oggi se ne parla in una maniera talvolta retorica e senza andare a toccare davvero le radici del problema, soprattutto durante tutti gli altri giorni dell'anno. Quindi può capitare di leggere oggi dei post di uomini che si schierano contro la violenza, ma che non si rendono conto poi che in realtà la violenza sulle donne e il femminicido in particolare sono, la violenza fisica soprattutto, sono l'ultimo atto di una serie di aggressioni che possono essere più subdole, più sottili, che vengono perpetuate costantemente sulle donne ogni giorno. Questo è frutto di una storia, di una storia molto lunga della nostra società, dipende proprio dalla stessa struttura che in qualche modo ha creato uno squilibrio di potere rispetto al genere. Il modo in cui si nasce, le caratteristiche con cui si nasce e il modo in cui si viene assegnati alla nascita a un certo genere, quindi a un certo abbigliamento, a certi costumi, a certe cose che si possono o non si possono fare, non è naturale, è frutto di una cultura. Questa è una cultura millenaria, se andiamo a vedere nel Medioevo, ma anche prima nella cultura greca antica ci sono tante testimonianze di discorsi contro le donne, le donne considerate inferiori, incapaci di parlare, che dovevano essere picchiate, messe a posto, non facevano parte a volte neanche del regno umano. Quando si parlava di uomini si parlava davvero solo di maschi e non anche di donne. C'è una lettera di Christine de Pisan, che è stata una grandissima autrice del Medioevo, rivolta al figlio, indirizzata al figlio, in cui lei dice mi raccomando non picchiare tua moglie. Lei ha precorso davvero i secoli rispetto al discorso sull'indipendenza delle donne, ma in quella lettera era evidente che picchiare le donne facesse parte della norma, non era un problema, era qualcosa di perfettamente normale e lei già al figlio diceva di non farlo, perché in realtà lei sapeva che non era normale per niente e quindi parlava, raccontato nel suo grande capolavoro, la città delle dame, di quanto soffrissero tantissime donne che erano costantemente vittime di torture, di maltrattamenti, di costrizioni. Ecco, leggere quelle pagine in realtà ci fa pensare a tantissime donne che in tanti ambiti diversi, prima di tutto ovviamente quello affettivo e familiare, vivono ancora una condizione simile a quella che vivevano le donne medievali e questo significa che per quanto tante condizioni siano cambiate nella nostra società, alcune invece non sono cambiate e quindi ancora le donne sono vittime di maltrattamenti, vittime di violenze e non possono uscire dalla violenza e la ragione per cui, al di là della retorica, bisogna parlare di questo tema, bisogna parlarne tutti i giorni e per cui vi auguro in questa giornata di poterlo fare, potervi prendere cura della società, prendere cura di quello che accade e fare in modo che nessuna persona possa essere più vittima di violenza fisica, psicologica, economica e che quindi ogni persona possa essere libera di fiorire.